Lo stanziamento iniziale del 2021 ammonta a 112 milioni di euro. Abbiamo cercato di tenere sotto attenzione tutte le esigenze della città. È un bilancio che è iniziato a nascere ad agosto 2020, quindi abbiamo iniziato in una fase in cui il Covid aveva un contagio discendente. Oggi la situazione è totalmente diversa perché c'è una ripresa purtroppo dei contagi e quindi possiamo dire, nella bontà del bilancio generale, che sicuramente dovrà essere modificato già da gennaio perché c'è un'evoluzione storica diversa da quella che era la normalità. Però è importante approvare il bilancio entro il 31 dicembre perché così come lo scorso anno avremo uno strumento agile, flessibile con le variazioni di bilancio per poter rispondere a quelle che sono le esigenze variabili perché c'è una situazione estremamente fluida del territorio di Pescara e non solo. Quindi approvando con questa manovra abbiamo l'immediata operatività dello strumento comunale. Abbiamo sicuramente la parte preponderante, come diceva, e la parte del sociale. Abbiamo attenzionato in maniera abbastanza corposa quelli che sono gli interventi. Abbiamo fatto anche un incontro con le organizzazioni sindacali che hanno condiviso il metodo. Tra l'altro ci saranno incontri, abbiamo preso un impegno di prendere incontri periodicamente proprio per correggere il tiro perché oggi il sociale è più ampio di quello che era individuato precedentemente in quanto ci sono nuove fasce di povertà che sicuramente debbano essere prese in considerazione e gli strumenti non possono essere necessariamente quelli che avevamo un tempo. L'Isee parlo di altro perché ci sono ad esempio il popolo delle partite IVA che magari hanno avuto un crollo vertiginoso di fatturato e che pur avendo un Isee perché è fatto su base precedente dell'anno superiore a quelli che sono i soccorsi finanziari del comune e del sociale in realtà hanno bisogno di interventi immediati. Quindi si dovranno studiare insieme ovviamente senza sostituirci alle manovre del governo i nuovi strumenti per soccorrere anche costoro.